Indagini a tutto campo da parte della squadra anticrimine del commissariato di via Sallustio sull'ultimo episodio di violenza in città che risale alla notte fra venerdì e sabato scorsi. Ad avere il peggio è stato un 41enne di Sulmona, IR, che ha rimediato un forte pugno al volto prima di essere trasportato in ospedale. Di quella notte la vittima dell'aggressione ricorda poco o nulla. Il racconto confuso dell'uomo non agevolerebbe gli inquirenti che si stanno occupando del caso per cercare di risarire ai responsabili. Al momento quindi tutte le piste restano aperte ed è ancora presto per avanzare qualsiasi ipotesi. La zona fra l'altro non sarebbe nemmeno coperta dalle telecamere di videosorveglianza. Stando alle primissime informazioni erano circa le 3.30 di sabato scorso quando il 41enne è stato malmenato nei pressi della villa comunale a Sulmona e lasciato a terra. Soccorso da un'ambulanza del 118, l'uomo avrebbe riportato ferite all'arcata sopraccigliare e allo zigomo con un referto di 28 giorni che spinge gli inquirenti ad indagare. Non si sa ancora se l'aggressore abbia giro da solo o con l'aiuro di altre persone. L'episodio ha riacceso riflettori sulle notte violente in città che negli ultimi mesi sono tornate. Si registra infatti il secondo caso negli ultimi due mesi. L'ultimo risale alla sera di San Silvestro nei pressi di un locale del centro storico. Fra il 2016 e il 2017 la cronaca ha raccontato una raffica di episodi. Cinque casi che si sono registrati in sette mesi da luglio 2016 a febbraio 2017.